Che top! Hai visto che bella faccia che ho? Sono Ender Blaze Ok? E benvenuti nelle build battle di oggi ragazzi Con Marci Lui è semplice Non ha le cose con io Perché non è youtuber Se voi andate a vedere nei tab Vedete Yt Eren Blaze Marci dove sta? Ah! In seconda fila Tra Jmansky E Mythical Bella Marci Ma chi sei? Chi sei? Andiamo in partita va Quanti like? Io non gli chiedo i like Non te li meriti Comunque siccome ho coins 6.000 No 68.900 Ti ne chiedo 68.900 Mi sembra giusto 68.900 Ragazzi è uscito elefante come parola Dobbiamo OMG A youtube Mi hanno chiesto Stai registrando Termless storm La tempesta senza terme O senza termine Cioè cos'è? Io ti dico una cosa Il colore dell'elefante ce l'ho Mi piace Clay ciao Io Io Yeah I'm actually special Ok Ragazzi È la prima e l'ultima volta che dico Sto registrando Quando me lo chiedono Cioè veramente si stanno Bagnando tutti per cose Basta Basta Stop 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 Che palle Ho capito che stiamo guardando Registrando Dovete salutare le mamme Ok Facciamo Allora Come si dice salutare in inglese Ho Ho un bug nel cervello Oddio Helpami Helpami Stay high to youtube Vabbè dai sti cazzi Le voglio dire tipo Salutate le mamme E poi non rompete le palle Però noi glielo diciamo Tu sei già facendo L'elefante Eh si Ma io ti devo fare una domanda In tutto ciò L'elefante Ma si dondolava Un Te lo ricordi Un elefante Si dondolava Sopra Al filo Di un Cosa mi hai ricordato Questa Questa è colpa di Era colpa di Kenoya Che nella lobby delle Eggers Diceva sempre sta roba Quindi adesso sapete Cosa dovete fare Andate sotto L'ultimo video di Kenoya E in massa Dovete scrivere Senza dare spiegazioni Un elefante Si dondolava Fine Voglio vedere Lei che sclera Che chiede Oh raga ma Mi scrivono così Nei commenti Ma non capisco Perché lei non si guarda I video nostri No no Perché è il bello Che lei non si guarda I video nostri Quindi non capirà mai Da dove arriva sta cosa Cosa noi guardiamo I video degli altri Perché noi siamo Delle buone persone Esatto Sai cosa dobbiamo fare Per vincere Cosa Kawaii Ok Sai come dobbiamo fare Per vincere Vote me I mi raccordi Legendary Please Mi raccomando Trollare sulle Bill Battle Mi raccomando Mi raccomando È devastante Adesso voglio vedere Se lo fanno Veramente Vogliamo fare L'elefante Peggiore della vita No Ma sai che In tutto ciò Io sto costruendo Non so neanche Che cazzo stiamo facendo Un elefante Si dondolava Soprattutto di una Ma è stranissimo Sto elefante In realtà La forma c'è Secondo me Guardalo da davanti Se ti piace Vediamo Non capisco cosa sia È una faccia Ma perché sto facendo La schiena Dell'elefante E tu la faccia Ma infatti Tu devi fare il protagonista Ma infatti dovrei Tra l'altro L'elefante Sta nella savana No Le piantine Di Di acacia Sì Mettiamo delle piantine Di acacia in giro Dopo Che dici Ci sta Io faccio Un tocco di classe Anomalo Cerca di vedere Un po' Sta cosa Fai la coda E tutto quanto Io ci Che provo Sì Fine C'è C'è un punto qui Dove Sembra che L'hanno tranciata E' tipo lì che penso Non lo so Mettiamo un block Cioè Attacchiamogliela bene Poverino Mi stanno venendo bene La faccia Vai così E Così Sembra più che altro Il pungiglione Di una zanzara Sai cosa facciamo Qui Tagliamola Hanno la coda Piccolissima Guarda Se chiedi a google Vai sul sicuro Onestamente Allora Particel Drip water O bubble Tutte e due Non so Fai vedere Tutte e due Gigione Sì ma adesso Devi cercare Delle cose Kawaii Ok Io ho messo Spero ho messo Le bollicine E Adesso mettiamo Drip water Proprio trust me Trust me Sì ma non lasciare Il blocco Lì a penzoloni Cazzo di server Buggato Eh Non è proprio così Che volevo Vabbè Vabbè Marci Ci sta Sembra che sta Spruzzando l'acqua Ci sta Ok Allora Cos'è che Mi stai chiedendo Di fare Non so Qua è un po' Un po' Fatto a casa Nel senso qua Manca un pezzo È decisamente Fatto a casa Innanzitutto La testa dovrebbe essere Un attimino più profonda Secondo me Eh no ma manca un pezzo Ma non lo so Ma stavamo parlando Io non ci ho fatto caso Ho costruito un muzzo Così diciamo che va bene Dai Sì Tanto Tanto Allora Questa volta Voglio farmi Gli ho chiesto Di votarmi bene Voglio vedere se Fanno le merde O che cosa Allora Intanto prendiamo Un banner Decisamente Fai banner kawaii Bianco Esatto Bianco Top left Ciano Finish Guardalo qui Ma perché Non top left Madonna Abbiamo sbagliato Allora di nuovo Bianco Per un momento Ti stavo per dire Sono crashato No Speriamo di no Guarda Finish Andiamo a portarci a casa Sto elefante Su minecraft Ecco Così potrebbe essere kawaii Più o meno Adesso Sai cosa facciamo Prendiamo L'argilla Rosa Che non è in questo menu Ma in questo Sono troppo grandi le orecchie Sono troppo piccole anzi Le orecchie secondo te Aspetta che adesso le guardo Gli faccio le guanciotte rosa Che top Che bello Che bello Che bello Super kawaii Allora Come le stai facendo lì Ma l'hai fatta la schiena bene? No Sto facendo le orecchie Sono più importante Ok Eh ma il problema è che Non sapendo come le hai fatte Manca Pochissimo Faccio io Ok aspetta Ok le riempiamo di rosa dentro? Eh Sì ma non tutte tutte Se no viene strano Aspetta però Non questo rosa È il bianco Il bianco È infatti Il bravo Vai a fare dall'altra parte tu Ok Sembra tipo un'offesa Ma vai a fare In dall'altra parte Effettivamente È carino È carino dai Gli hai fatta la coda poi È kawaii mega kawaii Gli hai fatta la Madonna ma No così rende malissimo È un po' piatto però È abbastanza piatto Ecco dagli L'hai fatta Qui gli mettiamo due blocchettini Giusto per dettagli extra E Minchia Sembra che si è schiantato Su un vetro Non so Abbiamo tempo di farlo Così Così Ma assolutamente no Assolutamente no Lascia stare Lascia stare Va bene Questo qua almeno È un pochino meno piatto Così L'ho bucato L'ho bucato Ho fatto una cazzata Ok È rimasto un buco Io l'ho fatto il sopra S'hai visto Che schifo È rimasto un buco Che schifo Lui è quello che No sono bellissimi Ma io voto super pup No non mi ha fatto votare Ma erano belli però Kawaii ma belli In realtà ho votato ok Sì sì anch'io Questo è orrendo invece Questo è davvero brutto Io non mi faccio vedere Quando voto Così poi mi votano bene Mi raccomando Legendary Mi raccomand Mi raccomand Vedi ah Chissà Chissà ragazzi Vedremo dopo Secondo me Non è brutto È piccolo Ma non è brutto Non abbiamo messo gli alberi È un mammut Questo Non abbiamo messo gli alberi Da caccia Lo sai Questo si è ghiacciato Cosa abbiamo dimenticato Le corna No Le corna Vero Sì vabbè Le corna Questo è bellissimo Questo è bellissimo Io gli ho dato good Questo è davvero bellissimo Non so come abbia fatto A farlo così picco Ecco i mattoni Le scale Tutto Questo è orrendo Con i mattoni E tutto Esce molto dettagliato Ma non è neanche un elefante Che cos'è Un torcual Ponga puoi farti vedere Se voti male adesso Tanto noi siamo già passati Sì sì Lo so Questo lo voto male Perché sembrano tanti koala Sto iniziti Tanti koala Cioè onestamente Ma direi cos'è sta cosa E questo se l'hai griffato O secondo No sai cosa Ha messo anche lui le particelle d'acqua Ma si è buggato E perché non abbiamo messo Gli alberi marci Guarda che bello effetto Che fa Un ok però Preferivo gli altri Non mi è piaciuto tanto Perché anche io L'ho votato ok Sì anch'io Questa è una pixel art Posso votare di leggenda No ti prego Orrinda Ma sai che io Non vedo i giocatori Io li voto Anche io non li vedo più Ora sì Boh strano Questo È da brutto È brutto Ma dai Ma ha fatto la merda Cioè Questo è Eh sì Solo perché sanno di essere su YouTube Questo Pup Non mi piace Non mi piace Anche secondo me Pup Sei arriviamo secondi eh Ma qua Ha vinto Termless Storm No non ci prego No non se lo merita Allora Se lo meritava Quello che ho votato good Anch'io Quello lì era bellissimo ragazzi Non si può dire niente Però secondi Secondo me Solo perché gli ho chiesto Di votarci bene Se no non ci arrivava Mi raccomende Mi raccomende Ragazzi Nei commenti Mi raccomende Un elefante Si dondolava eh Mi raccomende Fatelo Dopo il filo Di una cobweb Quindi ragazzi Questa era la Bill Battle Della settimana In compagnia di Marci Che vi ricordo È un plebeo Perché se voi guardate qui Vedete che Io sono un patrizio Io sono yt E lui no Comunque Spero che vi piaccia comunque Magari la prossima volta Mi cerco Un partner Un po' più alto locato Tipo me Comunque noi ci vediamo presto Con altri Bill Battle Passate anche dal canale Di Marci Perché ce ne saranno altri Un saluto da Ender Blaze Ciao a tutti Ellen Blaze Ciao a tutti Ellen Blaze Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti